Quali sono gli italiani di frontiera, Silicon Valley Tour? Ho fatto il viaggio con Roberto nel 2015, è stato un viaggio molto importante che mi sono portato nel cuore fino adesso e penso che me lo porterò avanti ancora. È stata un'esperienza formativa perché ho visto che le cose si possono fare. In Italia spesso quando ti viene una buona idea affronti immediatamente i problemi, dall'altra parte del mondo invece per prima cosa vedono le opportunità, cosa posso imparare, cosa posso fare, cosa posso ottenere con questa mia idea. Per questo ringrazio Roberto. Sono Fabio Mariani della Dittati di Cesea.